Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. In questo video vedrò di far chiarezza su cosa sia una distribuzione Linux, sul perché ne esistano a centinaia, e vi guiderò alla scelta di una distribuzione Linux per principianti. Come detto nel video precedente, la distribuzione che vi consiglio è Linux Mint, quindi vedrò nel corso del video di farvi vedere come installarla e come muovere i primi passi con essa. Intanto, cos'è una distribuzione Linux? GNU Linux è un sistema operativo per computer, come lo sono ad esempio Windows e Mac OS. Si usa il termine distribuzione perché appunto si tratta di una distribuzione di programmi, ossia una collezione di diversi programmi che costituiscono questo sistema operativo. Ma quali sono questi programmi? Di cosa si compone una distribuzione Linux? Intanto, ovviamente, una distribuzione Linux si compone di un kernel, il kernel Linux appunto, ovvero il nucleo, il cuore del sistema operativo, quella parte che si occupa di gestire l'hardware e i processi in esecuzione sul PC. Ma altrettanto importanti sono quei programmi di base e quelle librerie GNU che, detto in modo semplice, permettono all'utente di interagire col proprio PC. Inoltre, le distribuzioni Linux possono includere vari altri programmi preinstallati per venire incontro a varie esigenze dell'utenza. Detto questo, in cosa si differenziano le distribuzioni Linux? Diciamo che chi sente nominare Linux per la prima volta tende a sentirsi confuso da tutta questa sovrabbondanza di distribuzioni. Guardate, qua abbiamo tutta la lista di distribuzioni Linux. Possiamo vedere quando ognuna di loro è nata, su cosa ognuna di loro si basa. Sono veramente centinaia, quindi un utente che sente nominare per la prima volta Linux probabilmente non saprà che pesce pigliare. E l'unica differenza che un principiante può notare tra una distribuzione e l'altra sarà probabilmente l'aspetto grafico. In realtà, però, un utente più smaliziato sa che l'aspetto grafico non è altro che un semplice programma e che quindi, come qualunque altro programma, può essere installato e disinstallato su qualunque distribuzione Linux. Per cui, un utente più esperto tende a non considerare l'aspetto grafico nel differenziare una distribuzione dall'altra. Tuttavia, essendo questo un video rivolto a principianti, terrò anche conto dell'aspetto grafico per la scelta di una prima distribuzione Linux. Allora, in cosa si differenziano le varie distro? Innanzitutto, per l'hardware supportato. Esistono infatti distribuzioni Linux più universali che si possono installare praticamente su qualunque architettura. Mentre esistono anche distribuzioni che puntano ad essere installate su una o poche architetture. Quindi, nella scelta di una distribuzione, bisognerebbe vedere su quale hardware la si vuole installare e quindi comportarsi di conseguenza. Però, diciamo che nel nostro caso, ossia per installarle su un computer fisso o su un portatile, la maggior parte delle distribuzioni va benissimo. Poi, ogni distribuzione ha un suo scopo di utilizzo. Esistono distribuzioni dedicate alla sicurezza, per esempio. Distribuzioni dedicate all'hacking, dedicate ad un uso multimediale, ad un uso più generico, eccetera. Target di utenti. Esistono diverse utenze a cui si può puntare. Noi ci concentreremo sulla differenza tra un'utenza principiante e un'utenza più esperta. Esistono, infatti, distribuzioni sicuramente adatte a principianti, come esistono anche distribuzioni che puntano ad un'utenza più esperta. Quindi qua, sicuramente, dovete valutare che tipo di utenza voi siete e quindi comportarvi di conseguenza. Disponibilità software. Ci sono distribuzioni con più software, con più programmi a disposizione sui canali ufficiali. Quindi, ci sono distribuzioni con meno programmi sui canali ufficiali. È chiaro che anche su queste ultime distribuzioni è sempre possibile installare dei programmi dai canali non ufficiali. Mantenute dalla comunità o da una compagnia? Allora, esistono distribuzioni sviluppate e mantenute da una compagnia. Le compagnie più conosciute nell'ambito Linux sono Red Hat e Canonical. In questo video vi mostrerò anche una distribuzione sviluppata proprio da Canonical. La distribuzione si chiama Ubuntu. Inoltre, esistono distribuzioni sviluppate non da una compagnia, ma semplicemente dalla comunità. Commerciale o non? Direi che questo punto è abbastanza chiaro, non c'è bisogno di spiegarlo. Modello di rilascio Allora, questo è un punto già importante. Esistono distribuzioni con un ciclo di rilascio, ad esempio semestrale. Ogni sei mesi esce una nuova versione della distribuzione. Altre distribuzioni non si prefiggono una data prestabilita, ma rilasciano nuove versioni semplicemente quando sono pronte. Altre ancora, non rilasciano mai una nuova versione, ma seguono semplicemente un aggiornamento continuo. Ogni giorno hai dei nuovi aggiornamenti, per cui la distribuzione la installi solo una volta e poi te la ritrovi sempre aggiornata. Sempre aggiornata. Queste ultime distribuzioni vengono chiamate Rolling Release. Per un utente principiante sicuramente è da consigliare una distribuzione con cicli di rilascio, preferibilmente una versione con lungo termine di supporto. Gestore di pacchetti Le diverse distribuzioni hanno anche un gestore di pacchetti, che è quel programma che sotto la scocca ti permette di installare e disinstallare programmi. Ogni distribuzione c'è il suo gestore. Ad esempio Linux Mint, Ubuntu ed altre hanno APT. Le distribuzioni basate su Arch hanno Pacman, Fedora c'ha DNF, eccetera. Pacchetti o sorgenti Esistono distribuzioni Linux basate su pacchetti, su cui puoi installare facilmente dei programmi precompilati. E distribuzioni basate su sorgenti, su cui devi andare a compilare manualmente il software. Sicuramente per principianti sono da consigliare le distribuzioni basate su pacchetti. Bene, potrete capire che con tutte queste sottigliezze è normale che nascano centinaia di distribuzioni Linux, ognuna con le sue particolarità. Adesso concentriamoci su un paio di distro adatte a principianti. Tutte le distro che vi mostrerò sono a lungo termine di supporto. Tutte sopportate per 5 anni, quindi fino al 2027. Cominciamo da Linux Mint. Vi faccio vedere come installarla. Innanzitutto vi consiglio di installarla su un computer che non usate più. Ovviamente potete anche installarla sul vostro PC principale, anche accanto a Windows, senza intaccarlo a Windows. Ma installare Linux su un PC secondario vi permetterà di sperimentare liberamente, di fare tutto quello che vi pare, senza alcuna paura. Andiamo sul sito di Linux Mint, linuxmint.com E clicchiamo su Download. Vedete che abbiamo tre edizioni. La Cinnamon Edition, Mate Edition e XFCE Edition. Se avete un computer con 4GB di RAM o addirittura solo 2, vi consiglio la XFCE Edition. Più avanti nel video vedremo anche un'altra possibilità per computer datati. Comunque, concentriamoci sulla Cinnamon Edition, che è l'edizione ammiraglia di Linux Mint. E clicchiamo su Download. Avete la possibilità di scaricare tramite Torrent. Oppure, più in basso, da uno dei seguenti mirror. Quindi scegliamo un mirror vicino. Andiamo su Italia, ce n'è solo uno. E clicchiamo. E quindi parte il Download. Una volta scaricata Linux Mint, sarebbe buona norma verificare l'integrità del download. Eccolo qua. Per semplicità, salterò questo passaggio opzionale, ma ripeto che sarebbe buona norma verificare l'integrità e autenticità del file scaricato. Ora dobbiamo preparare una chiavetta USB, una pendrive, che verrà formattata e ci permetterà di avviare Linux Mint in modalità Live sul PC. Quindi andiamo sul sito di Balena Etcher. E scarichiamo questo programma. Balena Etcher per Windows. Se avete Windows, ovviamente. Dopodiché facciamo partire questo programma. Selezioniamo Linux Mint cliccando su Selezione Immagine. Selezioniamo la nostra pendrive cliccando su Select Drive. E clicchiamo su Flash. Aspettiamo quindi che la pendrive sia pronta. A questo punto siamo pronti per iniziare. Il primo passo sarà cambiare l'ordine dei boot del PC. Cioè, dobbiamo dire al PC di far partire non ciò che è installato sul disco, ma la nostra pendrive. Come si fa? Beh, dovete premere uno specifico tasto durante i primi secondi dopo l'accensione. A seconda del modello del vostro PC, questo tasto potrebbe essere il tasto ESC, oppure CUNCH, oppure F1, F2, F8, F10, F11, F12. Insomma, non ve lo posso dire io, non conoscendo il vostro specifico modello. Alcuni PC vi presentano direttamente la possibilità di scegliere cosa far partire. Su altri PC, invece, dovrete entrare, tramite la pressione di uno di questi tasti, nelle configurazioni del cosiddetto BIOS, o UEFI nei computer moderni. E lì dovrete cercare le opzioni di boot. L'obiettivo è avere la nostra pendrive in cima all'ordine di boot. Una volta cambiato l'ordine di boot e una volta fatto partire il computer con la chiavetta USB inserita, vi troverete davanti ad una schermata del genere. Facciamo partire Linux Mint cliccando con il tasto invio, premendo il tasto invio su Start Linux Mint 21 Cinnamon Edition. Metterò in pausa e ci vedremo di nuovo quando Linux Mint avrà finito di caricarsi. Ed ecco che Linux Mint ha finito di caricarsi. Clicchiamo quindi su Install Linux Mint. Vedrete che il processo di installazione è veramente molto semplice, nulla di così complicato. Il primo passo è scegliere la lingua italiana e cliccare su Avanti. Secondo passo è scegliere la tastiera italiana, ma nel mio caso avendo una tastiera tedesca vado su German e clicco su Avanti. Dopodiché spuntiamo questa casella per installare dei codec multimediali, per riprodurre alcuni formati video e clicchiamo su Avanti. A questo punto vi ritroverete diverse opzioni, ad esempio l'opzione di installare Linux Mint accanto a Windows. Quindi se avete Windows installato e volete conservarlo, scegliete questa opzione per installare Linux Mint accanto a Windows. Nel mio caso posso cancellare l'intero disco e installare Linux Mint come unico sistema operativo. Quindi clicchiamo su Installa e confermiamo con Avanti. Scegliamo il nostro fuso orario, la nostra località, nel mio caso spunta già automaticamente Berlino, a voi probabilmente comparirà Roma. Clicchiamo su Avanti. Informazioni personali. Scrivete il vostro nome. Scegliete un nome utente che vi comparirà nella schermata di login. Scegliete una password abbastanza complicata. Vi consiglio anche di incifrare la cartella personale, in modo tale di evitare l'accesso al vostro computer, nel caso in cui lo perdiate, ve lo rubino. Quindi clicchiamo, clicchiamo su Avanti. Adesso io metterò in pausa il video e ci rivedremo a fine installazione. Ecco, l'installazione è finita, quindi possiamo cliccare su Riavvia ora per provare il sistema operativo appena installato. Ci verrà chiesto di disinserire la chiavetta USB, quindi disinseriamo, premiamo invio e il sistema si riavvia. Ed eccoci alla schermata di login, con il vostro nome utente. Io l'avevo chiamato semplicemente utente, quindi inserisco la mia password, premiamo invio e parte l'ambiente grafico Cinnamon. Cinnamon è solo uno dei tanti ambienti grafici presenti su Linux. Chi sente parlare di Linux per la prima volta domanda, ma che aspetto grafico ha? Beh, la risposta là è difficile, perché non c'è una risposta univoca. Questa è la schermata di benvenuto. Potete cliccare su primi passi ed effettuare delle prime personalizzazioni, la personalizzazione dei colori, lo stile del pannello. Ma cosa ben più importante è creare un istantaneo di sistema, in modo tale che avete sempre, diciamo, un backup del vostro sistema. Quindi voi cliccherete su esegui, inserite la vostra password e verrà selezionata questa opzione rsync. Cliccate su avanti e seguite tutte le istruzioni. Vediamo, ve la faccio vedere. Spero che non ci voglia molto tempo. Essendo questa una macchina virtuale, richiede un po' più di tempo rispetto a un computer vero e proprio. Vediamo un po'. Va bene, dovete semplicemente cliccare su avanti, scegliere la cadenza delle istantanee, poi su avanti, eccetera. Vabbè, penso che possiate riuscire a farli da solo, da soli. Poi, gestore dei driver. Questo è importante nel caso in cui abbiate dei componenti hardware che richiedono dei driver specifici. Eseguite e vedete, è tutto abbastanza molto semplice. Gestore aggiornamenti. Per effettuare gli aggiornamenti, eccetera. Il firewall, il firewall, cliccate su eseguite, scrivete la vostra password. Stato, lo mettete su on. Ed è fatto, avete già attivato il firewall. Niente, in realtà c'è ben poco da dire perché il sistema è molto facile da usare. Avete qua un menu con tutti i programmi installati, divisi per categoria. Ad esempio ci sono gli accessori, audio e video, grafica, internet, ufficio, eccetera. E allora, per installare programmi, la cosa interessante è che per installare programmi, basta andare qua, su gestore applicazioni, per trovare tutta una lista di programmi installabili, senza quindi andare a recuperarli dal web da qualche parte. No, rimanete qua, che è un canale ufficiale, una fonte ufficiale, quindi sicura, per installare nuovo software. Bene, direi di risparmiare tempo. Vi mostro delle alternative al Linux Mint, che potete tranquillamente installare se avete un computer abbastanza moderno. Allora, la prima alternativa che vi mostro è Ubuntu, cioè la distribuzione sviluppata da Canonical. Ubuntu presenta come ambiente grafico GNOME, o GNOME, che dir si voglia. Ed eccolo qua. Questa è Ubuntu 22.04, sviluppata, rilasciata nell'aprile 2022, e supportata per ben 5 anni, quindi fino ad aprile 2027. Come vedete, l'ambiente grafico non è familiare per chi proviene da Windows, è completamente diverso. Per questo vi consiglio Linux Mint. Comunque, allora, per installare applicazioni, qua bisogna andare sull'Ubuntu Software, si aprirà tutto il catalogo, e voi potete sfogliare tra, ad esempio, musica, audio, giochi. Andiamo per esempio sui giochi, verrà scaricata tutta la lista dei giochi. Ci vuole, ecco qua, per esempio, 0AD, il primo gioco, qua. Clicchiamo, troviamo una descrizione, delle immagini, e anche le recensioni degli utenti. Quindi, cliccando su installa, poi lo possiamo installare. Molto, molto semplice. Come ripeto, non bisogna andare su internet a reperire software da qualche parte, no. Lo si installa in modo sicuro e conveniente, semplicemente, da un centro software, dall'Ubuntu Software. Allora, questo è l'ambiente grafico GNOME. Se clicchiamo qua, vediamo tutte le applicazioni preinstallate, e vediamo che abbiamo due desktop virtuali. Sul Linux non c'è un solo desktop, ce n'abbiamo di più. Il che significa che, se apro un'applicazione, o diverse applicazioni, posso poi portare un'applicazione da un desktop all'altro, e quindi ritrovarmi le differenti applicazioni su differenti desktop. Cos'altro vi posso mostrare? Beh, in alto abbiamo il pannello, con tutte le opzioni di luminosità, la connessione, tutte le impostazioni, eccetera. Mi sembra di spiegare ovvietà, perché in effetti non è difficile usarlo. Vi consiglio semplicemente di provarlo, e se vi aggrada di più Ubuntu rispetto a Linux Mint, e allora installate Ubuntu senza problemi. L'ultima distribuzione che vi mostro è una variante di Ubuntu, Qbuntu. Qbuntu è basata su KDE Plasma, ed è esattamente l'ambiente grafico che vedete qua. Questa è Qbuntu 22.04, quindi valgono le stesse cose che ho detto per la distribuzione originaria Ubuntu, ossia è stata rilasciata in aprile 2022, ed è supportata fino al 2027. Ormai avrete capito che per installare programmi su Linux non bisogna cercarli su internet, ma semplicemente su uno store, su un centro software, che in questo caso vedete qua, Discover. Per il resto, cosa posso dirvi? è un ambiente grafico personabilizzabile al massimo, se siete delle persone a cui piace personalizzare qualunque cosa, KDE farà sicuramente al caso vostro. È abbastanza simile a Windows, ricorda un po' Windows, avendo questo menu in basso a sinistra. E niente, se vi piace, potete installarlo, non richiede chissà quali risorse hardware, ma sicuramente non è leggero come XFCE. Dimenticavo, se avete un computer molto datato, e avete già provato Linux Mint XFCE Edition, e non siete soddisfatti, potete anche provare Ubuntu, con ambiente grafico LXQT. Anche questo è un ambiente grafico molto leggero, quindi adatto a computer datati. Va bene, ciao da Clarintux.